Adesso vi chiedete qualcosa che è impossibile, nel senso che io non posso dire cosa avrebbe detto, però se mi devo basare sull'uomo che ho conosciuto, lui c'era un artista avanti, era un artista che cercava dai grandi artisti di assimilare il contributo artistico di tutti i più grandi del mondo, lui passava la vita ad ascoltare, ad analizzare e quindi secondo me gli sarebbe piaciuto perché è una storia attuale, moderna, attaccata alla vita, quindi gli sarebbe piaciuto sicuramente, anche perché mentre io sono stato il più grande ammiratore di Battisti, lui è stato il più grande ammiratore dei miei testi.